Cominciata questa mattina 31 agosto la seconda fase degli interventi di manutenzione straordinaria del viadotto Agragas II lungo la strada statale 115 Quater ad Agrigento. Viene chiusa al traffico infatti la carreggiata in direzione del centro città con l'istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta. Limitatamente i mezzi non eccedenti, le 3,5 tonnellate, disposizione che permarrà fino alla prossima primavera. Gli interventi riguardano il rinforzo dei polvini, gli elementi trasversali al senso di marcia posti tra le pile e l'impalcato, il ripristino dello stesso impalcato e l'installazione delle nuove barriere di sicurezza laterali, così come si legge nel comunicato ANAS. Il viadotto era già stato interessato in passato da lavori, l'anno scorso erano stati effettuati degli interventi di risanamento di tutte le pile.